Ciao a tutti, in questo video parliamo di temi molto interessanti sulla finanza decentralizzata e sulle criptovalute, in particolare tratteremo il tema delle stablecoin algoritmiche di terza generazione, ci sono stati diversi progetti di questo tipo, però adesso abbiamo ancora un'altra variante e si tratta appunto di The Base di Gov che andremo a vedere in questo video e poi parleremo anche di DeFi Pulse Index che è un indice diciamo di progetti DeFi, di finanza decentralizzata che può essere utile per chi vuole investire nel settore senza sbattersi troppo, compri questo indice e fai fare tutto a chi è che gestisce questo indice e ovviamente poi parleremo anche di alcune notizie interessanti che riguardano questo mondo delle criptovalute. Prima di iniziare come sempre questi non sono consigli finanziari, investite responsabilmente e a vostro rischio, in particolare in questo video parleremo appunto di questa criptovaluta che ha una market cap veramente bassa quindi aspettatevi sicuramente delle fortissime oscillazioni in entrambe le direzioni. Sarà un video anche abbastanza lungo quindi vi lascio anche in descrizione i timestamp se volete andare direttamente alla parte che vi interessa di più ma comunque vi consiglio di guardare tutto il video perché veramente sarà interessantissimo. Ok, allora partiamo subito con questa stablecoin che si chiama DeBase, è una stablecoin che dovrebbe tendere al dollaro come tutte le stablecoin e anche le stablecoin algoritmiche e tuttavia prima di parlare di questo progetto cerchiamo di fare un po' di chiarezza nel mondo delle stablecoin perché ce ne sono veramente di tantissimi tipi e con diversi pro e contro. Allora le più conosciute allo stato attuale sono le stablecoin centralizzate tipo Tether USD oppure USDC quindi la criptovaluta che è gestita da Coinbase e viene garantita appunto la sua stabilità al dollaro tuttavia ci sono altri progetti che permettono di avere allo stesso modo la stabilità ma con altri meccanismi un po' diversi e ovviamente ogni meccanismo ha i suoi pro e i suoi contro. Innanzitutto queste criptovalute stabili centralizzate ci dobbiamo fidare di chi le mette, loro possono dire di avere una riserva in oro oppure soldi liquidi in conti correnti tuttavia sono cose che non emergono dalla blockchain quindi ci dobbiamo affidare e fidare di chi è che gestisce queste criptovalute e l'altro punto non tanto piacevole è che non sono resistenti alla censura se per qualsiasi ragione il nostro indirizzo viene marchiato da chi è che gestisce questo token in teoria potrebbe frizzarci il nostro valore di criptovalute stabili e quindi impedire poi di spenderle in futuro quindi dal punto di vista delle criptovalute sono dei compromessi ma non sono particolarmente interessanti le criptovalute stabili centralizzate abbiamo la seconda modalità di criptovalute stabili che sono quelle over collateralizzate tipo Maker DAO DAI che anche questa è abbastanza utilizzata il problema di questa criptovaluta è che è appunto over collateralizzata quindi significa che per creare una criptovaluta stabile dobbiamo mettere il 150% o più di altre criptovalute per poterla generare quindi non è molto efficiente dal punto di vista del mercato e negli ultimi mesi per aumentare la sua stabilità ma quelli di Maker hanno fatto una mossa che non è proprio al massimo però diciamo sta aiutando la stabilità ed è quella di aggiungere diversi criptovalute per appunto mettere come collaterale e una di queste criptovalute è USDC che appunto si tratta di una criptovaluta stabile ma centralizzata quindi immaginate se per qualsiasi ragione i gestori di USDC decidessero di bloccare i fondi a Maker automaticamente la criptovaluta stabile DAI over collateralizzata sicuramente potrebbe avere dei contraccolpi non molto piacevoli quindi anche questa cosa è da tenere in considerazione e qui arriviamo finalmente alla famiglia delle criptovalute algoritmiche stabilizzate sono quelle criptovalute tipo Ampleforth che ho trattato in passato in un video e hanno la caratteristica del rebase significa che se noi abbiamo per esempio 100 dollari di criptovalute di questi dollari stabilizzati e nel giro di 24 ore questo dollaro viene magari quotato a un dollare 20 quello che accade è che con il giro di rebase successivo noi ci troviamo qualcosa del tipo 120 dollari stabilizzati e in questo modo siamo diciamo più propensi a spendere questi 20 dollari in più in modo tale da far scendere il prezzo e far tornare la criptovaluta di nuovo verso il dollaro ovviamente questa cosa non è automatica perché non è perché è aumentata la quantità di monete in circolazione che subito tutte le persone decidono di venderla per farla tornare un dollaro e quindi anche in questo caso la criptovaluta anche qua può oscillare e anche di tanto quindi anche qua non è il massimo anche se ultimamente in effetti Ample Forth più o meno oscilla verso tende al dollaro però appunto anche qua c'è da aspettarsi forti oscillazioni e ovviamente nel caso in cui questa valuta dovesse valere meno di un dollaro per riportare la massa monetaria diciamo in modo allineato vengono poi tolte le criptovalute quindi diminuisce la quantità di criptovalute che abbiamo con il ciclo di rebase quindi sono dei sistemi di stabilizzazione che sono un po' brutali per risolvere questo problema si è passati poi alle criptovalute stabilizzate di seconda generazione che non ho trattato però una di queste è basis cash in pratica quando la criptovaluta vale meno di un dollaro viene data la possibilità di comprare dei coupon che ci daranno delle criptovalute in più con interessi quando questa criptovaluta tornerà a essere maggiore al dollaro il problema di questo approccio è che ci sono delle whale delle balene che fanno apposta far crollare il prezzo di questa stable coin algoritmica per prendere questi coupon il problema è che poi si perde la fiducia in questo diciamo tipo di meccanismo e una volta che questa criptovaluta va sotto il dollaro difficilmente tende poi a tornare in parità col dollaro e quindi anche qua diciamo non è un meccanismo ideale e qua arriviamo finalmente alla stable coin di base di gov in questo caso le cose sono un po' più complicate anche se c'è sempre il meccanismo del rebase e vi invito a leggere questo documento che vi lascerò in descrizione giusto per tirar fuori qualche punto teorico saliente questa criptovaluta a debase che appunto la stable coin algoritmica e poi a di gov che è la criptovaluta di governance e la cosa diciamo diversa rispetto ad ampleforth è proprio questo aspetto della governance il fatto che chi è che ha questo token può decidere appunto di attivare determinati incentivi che possono aiutare la stabilizzazione nel caso in cui questa cosa dovesse essere più difficoltosa questo documento che vi lascio in descrizione è un po' tecnico però ci sono diciamo tutti i ragionamenti del progetto che vi invito ad approfondire quello che vi faccio vedere è l'aspetto pratico di questa criptovaluta questo qui è il sito ufficiale che è appunto debase economics.io e in questo caso ci fa vedere appunto tutte le cose che possiamo fare quindi la l'aspetto diciamo più interessante è quello che possiamo fare staking in questo caso facendo lo staking qui potete vedere che ci sono alcune pool quindi fornendo liquidità a queste pool avete determinati vantaggi che non è detto che queste pool rimangano attive per per sempre con quattro attualmente c'è questa quindi formendo liquidità come debase dai avete la possibilità di generare il token di governance che appunto questo di gov e questo token di gov comunque tendenzialmente ne ha ce n'è una quantità limitata e molti di questi token sono già stati distribuiti quindi questo era la parte staking e qua ci sono appunto altre pool che attualmente però non hanno valore non sono attive abbiamo vabbè una parte di voto dove appunto possono essere votate determinate modifiche abbiamo la parte di rebase dove ci vengono mostrati quali sono i parametri attuali quindi il prezzo al quale si vorrebbe raggiungere adesso è quello di appunto 1 e diciamo i meccanismi di rebase si innescano nel caso in cui un debase vada al di sopra di 1.05 oppure 0.95 questo dovrebbe essere dai e qua appunto ci sono i meccanismi il rebase avviene ogni 24 ore e qua ci sono in blocchi diciamo altri parametri tecnici e anche qua si parla appunto di lag perché appunto nel momento in cui abbiamo il rebase non tutti i nuovi token debase creati vanno a chi è che tiene debase una parte vanno anche a chi è che partecipa ad altri tipi di incentivi e questo qua è il prezzo corrente quindi 1 dollore 34 quindi siamo in rebase positivo attualmente e l'ultimo rebase è stato 5.05 ore fa qua ci sono altre pool che funzionano in modo simile allora vediamo questa allora questa pool qui ok ci dà la possibilità di fare staking con ethereum quindi questa è ethereum ethereum debase e ci permette di accumulare debase quindi questa è la pool questo è la pr stimato che comunque è un qualcosa di variabile e ci sono ancora queste erano le pool stabilizer e ci sono altre pool incentivizer che sono queste che permettono appunto di collaborare anche con altri progetti di finanza decentralizzata l'unica cosa appunto potrebbero essere pool a tempo o comunque pool a limite quindi dovete controllare per esempio questa pool è già piena quindi anche se avete diciamo i token di liquidità non è detto che riusciate a partecipare visto che è già quasi tutta piena e l'altra cosa che giustamente vi dico in alcuni casi per partecipare a queste pool potrebbero esserci dei costi di transazione molto alti e quindi tenete anche in considerazione queste cose perché attualmente la rete ethereum ha le transazioni molto alte però questi sono appunto i meccanismi quindi questa era la partnership con 88 mph che è un altro progetto che ho parlato sul mio canale e questa qui invece di gov eth quindi vediamo questa pool questa pool con the gov eth ci permette di accumulare di base quindi su balance sono quelli che già abbiamo e su claimable sono quelli che appunto ci ha fatto guadagnare questo tipo di pool quindi qua possiamo una volta che abbiamo messo la liquidità su un swap possiamo caricare questo token lp e possiamo prendere reward nel momento in cui ce l'abbiamo oppure possiamo prendere reward e riprenderci indietro i token della pool queste sono le dinamiche di questo progetto è un progetto appunto della famiglia delle stable coin quindi magari adesso non si parla più tanto di questa tipologia però sicuramente il fatto di avere una stable coin che non sia centralizzata e non dipenda da asset che possono essere censurabili è una cosa diciamo abbastanza interessante e da tenere in considerazione nel caso della finanza decentralizzata e qui passiamo al secondo progetto che tratto in questo video che come tutti sappiamo adesso la finanza decentralizzata è arrivata a 34 billion quindi 34 miliardi di dollari di valore appunto bloccati ci sono progetti che escono fuori praticamente a pacchi ogni giorno con nomi di cani nome di frutta eccetera sono veramente tanti progetti defi pulse è stato uno dei primi siti che appunto gestisce un po di analytics riguardanti questi progetti e ultimamente ha fatto anche questo defi pulse index quindi comprando questo token diciamo vi esponete a molteplici progetti di finanza decentralizzata senza focalizzarsi su uno in particolare cliccando qua su index punto cop vi manda appunto sul sito in questione che adesso sta caricando e la cosa interessante è che appunto prende tra i maggiori progetti della finanza decentralizzata e voi potete vedere direttamente da questo sito la sua composizione quindi potete decidere di comprare voi singolarmente quello che sta comprando questo indice oppure affidarsi direttamente a questo indice qua vi fa vedere l'allocazione che ha in questi token quindi attualmente ha il 26 per cento circa su ave e il 25 per cento su uni tuttavia ci sono anche molti altri token che potete vedere e tra questi token che sono stati aggiunti ultimamente c'è anche loop ring che ci permette un pochino di risolvere questo problema dei costi delle transazioni alte per lo meno di mitigarle per chi vuole fare un po di trading e la cosa interessante è che anche qua se offrite liquidità con dpi che è proprio il token di questo indice di defy con ethereum vi darà la possibilità di farmare il token index che è il token di governance di questo progetto o in alternativa ho visto che su loop ring c'è la possibilità quindi se già siete su loop ring potete fornire liquidità con dpi eth e anche ottenere questi token index su loop ring. Loop ring è un progetto che avevo anche accennato in qualche video fa e diciamo ha degli aspetti che sono interessanti quindi c'è un costo di transazione per entrare ovviamente perché fa parte della rete ethereum e c'è un costo di uscita però una volta che siete dentro con i vostri ethereum ether oppure con altri token potete fare delle cose simili a quelle che fate con uniswap quindi prendere dei token che non sono ancora famosi non sono ancora listati e appunto fare trading con questi token tramite l'amm quindi lo stesso sistema di uniswap questi sono i token attualmente supportati come liquidità ce ne sono diversi ma sono meno di quelli che sono a disposizione su uniswap però appunto il meccanismo è lo stesso e i costi di transazione sono 0.25 per cento per quanto riguarda appunto il le fee di swap di scambio e appunto non c'è problema del gas perché in questo caso questo tipo di transazione non vanno a finire singolarmente sulla blockchain di ethereum altre altre cose potete anche utilizzarlo su alcune coppie in modalità trade in questo caso avete diciamo l'oscillazione quella simile che potete vedere appunto negli exchange centralizzati e questo loop ring è il token che appunto è associato con questo exchange layer 2 di ethereum e adesso queste parti non me le dà comunque su amm.info potete vedere quali sono le pool che stanno prendendo più fee attualmente quindi al primo posto c'è lrc eth tra l'altro c'è anche il reward in loop ring token su alcune pool e tra le pool abbastanza alte c'è questa anche dpi eth che appunto il token che vi ho parlato di prima quello che rappresenta diciamo tutto il settore più importante della defi e anche qua vengono distribuiti questi token index al posto del token loop ring e niente l'altra cosa sempre che riguardante loop ring e che per attivarlo dovete appunto fare una transazione verso questo questo exchange per poter appunto accedere a tutte le aree che vi vengono mostrate nell'interfaccia ok allora diamo uno sguardo al mercato adesso andiamo più nell'aspetto news che comunque ce ne sono tante abbiamo ethereum a 1750 passa dollari interessante bitcoin 38k e come potete vedere dagli ultimi sette giorni i token che hanno pompato di più sono proprio quelli associati alla finanza decentralizzata quindi bitcoin ha fatto il più 14 su base settimanale ethereum 31 e molti token che hanno a che fare con la finanza decentralizzata in alcuni casi hanno superato anche ethereum quindi ave 78 uniswap 53 eccetera quindi ultimamente il settore che tira di più è proprio quello della finanza decentralizzata maker 104 e per il token che abbiamo parlato prima si tratta veramente di qualcosa piccolissimi in confronto quindi abbiamo debase che è in posizione 835 quindi questo è il token diciamo tra virgolette stabile o che dovrebbe tendere alla stabilità e ok quindi questo qui è l'anno come vedete all'inizio aveva delle forti escursioni adesso sembrerebbe tendere al dollaro e la cosa interessante è che è andato due volte sotto il dollaro e poi diciamo è risalito o si è un pochino stabilizzato cosa che non è vera per per esempio altri progetti di stable coin algoritmiche quindi vediamo invece the gov che appunto questo govern questo token di governance e questo è andamento del token di governance ok quindi diciamo non ancora avuto nessun tipo di esplosione esagerata e invece l'altro progetto è questo basis cash che tra l'altro se davate uno sguardo alla redditività delle pool era uno di quelli che dava la redditività maggiore ma il problema di questo token è che appunto non è stato più in grado a diciamo ottenere la stabilità c'è stato un periodo allora vediamo ok comunque se guardate il grafico c'è stato un periodo che è riuscito a tenere la la stabilità e ultimamente vediamo ultimamente non non era più vicino il dollaro infatti qua è sui 42 centesimi 32 centesimi e quindi per adesso pare che queste criptovalute stabili con algoritmiche di seconda generazione sembrerebbe che non funzionino e altra cosa interessante appunto il gas costa tantissimo quindi fare le transazioni su ethereum costa ma costa ancora di più interagire con le pool o con alcuni tipi di smart contract e in questo caso il consiglio che vi posso dare è di utilizzare loop ring se volete appunto rimanere nel mondo decentralizzato o comunque di limitare il più possibile l'utilizzo della blockchain ethereum oppure di utilizzare altri progetti che si appoggiano ad altre blockchain come il progetto mirror che appunto esiste sia nella versione ethereum ma anche nella versione basata su terra quella con il token luna e comunque sia interessante vedere quali sono i progetti del momento che stanno consumando più banda su ethereum quindi abbiamo uniswap quindi exchange decentralizzato che vi permette di prendere dei token che magari non sono ancora listati sui sugli exchange più blasonati poi tether usd one inch che è un altro exchange decentralizzato con che fa anche da aggregatore sushi swap usdc ave e poi abbiamo anche qua questo smart way for sage anche qua ho dedicato un video sulla differenza tra la finanza decentralizzata e gli schemi piramidali oppure giochi ad alto rischio diciamo i rischi ci sono in entrambi i casi però nel nei nei giochi ad alto rischio il rischio fa parte proprio del gioco in sé e funziona nel momento in cui riusciamo sempre a portare delle persone dentro e questa cosa ovviamente non funziona così nella finanza decentralizzata perché lo scopo di questi progetti è offrire qualche servizio pseudo finanziario e non fare entrare delle persone per delle cose fino a se stesse ok invece per quanto riguarda le notizie quindi qua potremmo dire che siamo alla fase ultima quindi prima ti ignorano poi ti deridono poi ti attaccano e poi tu vinci qui siamo alla penultima fase è uscita questa notizia dove la banca centrale della nigeria ha detto alle altre banche di chiudere i conti correnti a chi è che invia appunto il proprio denaro verso exchange che hanno a che fare con le criptovalute quindi servizi di cripto exchange e la cosa interessante è che comunque forse non tutti sanno ma la nigeria è uno dei paesi con più popolosi dell'africa con più popolazione giovane e anche uno dei paesi dove ci sono più persone che utilizzano e sono interessate alle criptovalute quindi se questa cosa dovesse veramente essere applicata sarà molto interessante da seguire perché potrebbe crearsi veramente un'economia parallela quindi se molte persone dovessero avere il conto corrente chiuso per forza di cose queste persone inizieranno a commerciare e a fare appunto transazioni senza passare più dalle banche e se questa cosa dovesse veramente diffondersi si verrebbero veramente a creare due economie parallele una in criptovaluta e una in diciamo gestita dalle banche ovviamente questo questa problematica non è solo della nigeria c'è anche l'india che ultimamente ha detto che vuole bannare le criptovalute tuttavia le banna sempre in una modalità un po strana nel senso che anche qua vogliono spingere la propria criptovaluta digitale tuttavia è lo stesso la stessa modalità che abbiamo visto in passato quindi blockchain ma non bitcoin e questa cosa sembrerà strana ma non è sostenibile chi è che promuoveva questo tipo di approccio era IBM che ha annunciato di aver licenziato moltissime persone che collaboravano ai suoi tipi di blockchain enterprise quindi il 90 per cento di chi è che lavorava in questi progetti dlt diciamo è stato licenziato perché ci si è resi conto che alla fine queste blockchain enterprise non servivano a nessuno IBM aveva investito molto a livello di immagine eventi pubblicità e quant'altro di fatto come stiamo vedendo in questi giorni le persone sono interessate alla criptovaluta e la finanza decentralizzata e non a quello che volevano fare con queste blockchain commerciali che volevano appunto fare la tracciabilità dei prodotti a livello diciamo di più paesi questa cosa si può già fare oggi tramite i database distribuiti basta che tutti quanti i fornitori utilizzano lo stesso sistema e il fatto che l'IBM abbia smesso questa unit significa che evidentemente l'approccio blockchain ma non bitcoin o criptovalute non sta in piedi anche perché le criptovalute sono proprio l'incentivo che permette alle reti decentralizzate di rimanere in piedi quindi questa è una notizia positiva perché non ci sarà più questa ambiguità a blockchain ma non bitcoin che dire conclusione avevo fatto un sondaggio sul fatto se ti ispirava più il se ti dava più fiducia appunto bitcoin e cripto mario draghi e tra le persone che mi seguono hanno votato più dell'80% bitcoin e cripto dicono che questi tipi di sondaggio anzi in generale i sondaggi permettono di raggiungere più persone su youtube non sono completamente sicuro però hanno avuto diversi voti in questione e l'altra cosa era se nel 2021 ti faceva vincere di più bitcoin e cripto o la lotteria degli scontrini e cashback e anche qua più o meno le percentuali sono simili la cosa che mi stupisce di più di questi due sondaggi che ho lanciato è che la percentuale di chi è che ha votato lotteria degli scontrini è più alto di mario draghi quindi questo per dirvi quanto ancora siamo indietro e quanto siamo alieni rispetto il resto della popolazione questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti e ci vediamo in un altro video ciao a tutti